Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. L'idea di abitare è da sempre espressione del legame della consuetudine dell'uomo con un luogo ed uno spazio, nel corso degli ultimi decenni si è andata progressivamente modificando. La mobilità ha iniziato ad intaccare la tradizionale stanzialità della nostra cultura ed anche l'abitare è entrato a far parte delle tante variabili di consumo che contraddistinguono la contemporaneità. Unità abitative, unità scambio, servizi collettivi, spazi fluidi ed informali, co-housing, housing sociale. Sono solo alcune delle espressioni che indicano gli orizzonti del nuovo concetto di casa. Partiamo dalle porte di Torino, Via Ivrea. Nasce qui per chi passa, per chi resta e per chi torna un nuovo modo di abitare. Siamo davanti al progetto di Via Ivrea che è nato come idea nel 2008 e l'idea fondamentale era quella di creare un edificio in cui oltre all'abitare fisico ci fosse anche la necessità di un accompagnamento per i vari utenti di questo edificio. Quindi non solo l'hardware dell'abitare ma anche come chiamiamolo il software. Questa idea è venuta a Oltreventure che l'ha presentata al comune di Torino a cui è piaciuta molto creare uno spazio di housing sociale temporaneo. Questa è la caratteristica fondamentale. I nostri utenti possono rimanere da noi da un mese fino a massimo un anno. C'è quindi questa esigenza di rotazione. Quindi quello che noi abbiamo voluto creare è uno spazio abitativo temporaneo in collegamento con il territorio. Dalle porte di Torino al quartiere nuovo cuore pulsante della capitale tedesca. A Prenzlauerberg, situato nel cuore di Berlino, l'urban village Martaschoff realizza il sogno di molte persone. Vivere al centro di una grande metropoli e al contempo essere immersi in uno spazio verde. Attraverso un'integrazione armoniosa fra natura, architettura e individuo. I più alti standard di vita con l'impegno a seguire i principi di sostenibilità ecologica e a rispettare la natura, la storia e la cultura del luogo. Il primo tratto essenziale è il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente. Pensa che qui si sono preoccupati in centro a Berlino a fare un sistema di raccolta delle acque piuvane e hanno rinunciato a dieci posti auto all'interrato per fare una grande vasca che a sua volta irrigherà il giardino durante l'estate. La seconda è che ci sono 80 sonde geotermiche a circa 100 metri di profondità che raccuperano calore, lo danno al riscaldamento centrale fatto in pellete perché il pellete è meno costoso e non tossico e quindi a compensazione per un risparmio da una parte di coste e da una parte dell'ambiente. E poi c'è un altro tratto essenziale, quello di aver rinunciato a costruire tutto il volume possibile per fare al centro di Matasov un grande parco da 3000 metri quadrati. Nel solco del rispetto dell'ambiente un nuovo progetto che ci riporta a Torino per la precisione a settimo torinese si chiama Casa 100K ideata dall'architetto Mario Cucinella. Una realizzazione capace di restituire il senso di piacere dell'abitazione e ripagare il costo dell'investimento con l'energia che è in grado di autoprodurre. La ricerca è finalizzata alla realizzazione di una casa da 100 metri quadrati a zero emissioni di CO2 come impiantistica fotovoltaica integrata architettonicamente, utilizzo di superfici captanti energia solare per i mesi invernali, circolazione interna dell'aria per quelli estivi, tutte le strategie passive adottabili per rendere l'edificio una macchina bioclimatica. Quindi abitare insieme vuol dire anche condividere una parte dello spazio, far diventare lo spazio pubblico non uno spazio di nessuno ma uno spazio da condividere, da utilizzare e questo nasce anche dall'evidenza delle ricerche sociologiche in cui le famiglie italiane si esprimono col desiderio di abitare insieme e di condividere lo spazio. Quindi l'idea che il condominio sia un luogo di socialità non è una cosa molto lontana dal desiderio delle persone. Se poi qui riusciamo a immaginare che 40-50 famiglie vivono insieme, hanno una macchina o due di condivisione e quindi se la gestiscono, hanno un piccolo orto, hanno degli spazi comuni dove possono avere la lavanderia, la stanza degli obbi e tutto, in fondo stiamo anche riproponendo un modo di abitare insieme. Quindi in questo senso l'architettura dà anche una risposta non di natura solo estetica, ma aiuta anche i comportamenti, mette insieme le persone perché gli dà l'opportunità di vivere in un certo modo e questo mi sembra che sia proprio il vero e la radice del lavoro di un architetto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!